Salve a tutti ragazzi sono sempre io a Menzo e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale e finalmente siamo su FIFA 16 con il primo episodio della carriera allenatore con la nostra Inter ormai sapete da moltissimo tempo che volevo fare la carriera allenatore con l'Inter su FIFA 16 e oggi siamo qui con il primo episodio, ma di che cosa tratta questa carriera? Allora io voglio fare due stagioni con l'Inter perché alla prima stagione purtroppo ci dobbiamo guadagnare le coppe europee e la seconda stagione voglio provare a portare l'Inter sul tetto magari dell'Europa e quindi saranno due stagioni veramente piene ragazzi dove innanzitutto dovete supportarmi tantissimo ma soprattutto dobbiamo cercare di fare una squadra tosta da poter appunto giocare a campione perché giocherò a campione e nella seconda stagione cambierò la modalità di difficoltà a leggenda ma una squadra che ci permette di giocare campionato Coppa Italia nel primo anno e successivamente una squadra abbastanza tosta e forte per giocare anche le coppe europee questo è l'obiettivo, proveremo assolutamente in tutti i modi a farlo ma signori direi che si può partire tranquillamente allora innanzitutto qua ti sono stati assegnati i seguiti bonus sulla base del tuo progresso della carriera di FIFA 15 alcuni sono facoltativi, scegli gli oggetti che desideri applicare la carriera allora aumento del budget del 30% e rete globale io li metterei tutti perché c'è una spiegazione perché appunto essendo una carriera a lungo termine ho bisogno comunque di più soldi quindi io signori sceglierei subito subito l'Inter allora difficoltà campione, durata dei tempi 6 minuti rigore finanziario flessibile, valuta euro vabbè scarica più recente ovviamente competizione europea alla prima stagione no ok andiamo avanti allora download allora come si svolgeranno questi episodi, primi episodi ci saranno due episodi sul calciomercato ragazzi perché adesso ho un po' di appunti qui nel telefono il primo episodio, quello che vedete oggi sarà a parte i vostri consigli per gli acquisti che faremo nel prossimo episodio quindi ragazzi mi raccomando sotto nei commenti lasciatevi tantissimi acquisti per i prossimi giocatori che dovremo andare ad acquistare giovani ma anche di esperienza quindi vediamo di riuscire a fare una squadra per il futuro con anche abbastanza esperienza comunque in ogni caso andremo a vedere la nostra rosa mettendo in vendita i giocatori che non ci interessa ovviamente vi chiederò consigli anche da mettere in vendita io li metterò alcuni ma poi ovviamente dopo voi sotto nei commenti potete consigliarmi anche cosa fare andremo a vedere i miei acquisti gli acquisti che voglio fare io e poi ovviamente che andranno in secondo piano però a quelli che mi consigliate voi se voi avete dei consigli degli acquisti che mi interessano che sono migliori dei miei li tengo in considerazione e cercherò di comprare quei giocatori infatti in questa carriera voi sarete praticamente protagonisti perché io poi vi farò anche delle domande scriverò sotto nei commenti delle domande e voi dovrete rispondere e il secondo episodio che vedremo credo domenica adesso vedo quando riesco a registrarlo faremo appunto le offerte e andremo avanti con gli eventuali acquisti e le cessioni comunque perfetto menzo nazionalità facciamo italiana cerchiamo di essere un attimo almeno un po' coerenti perfetto senza perdere tempo però questi chi se ne frega caraggio ma chi se ne fotte la società intervaluta il nuovo te tecnico menzo signori inizia qui la nostra carriera con l'inter come detto mi raccomando sotto nei commenti un sacco di consigli sul mercato ho veramente tanto bisogno ho già un po' di idee infatti ve le mostrerò proprio in questo episodio voi siete cioè questa carriera deve essere interattiva dovete veramente consigliarmi anche chi vendere adesso vi farò vedere una prima lista della mia rosa e poi vedremo appunto chi poter sacrificare congratulazioni Riccardo scritto in grande menzo allora andiamo gli inviti perché questi sono inviti di tornei prestagionali siamo stati invitati a tornei prestagionali questo torneo qui Coppa Internazionale Europea ci dà la possibilità di avere un potenziale primo torneo di 9.700.000 che mi farebbero veramente veramente comodo quindi io starei con quel torneo Coppa Internazionale Europea sappiamo che lei e il suo staff giocatore quest'anno la competizione si svolgerà in Francia è un'ottima cosiddetta per valutare la sua rosa attuale bla 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 obiettivo Coppa Internazionale la dirigente ha analizzato le nostre possibilità della Coppa Internazionale ci piacerebbe fare un buon cammino per questo vorremmo che c'entrasse il seguente obiettivo raggiungi la finale perfetto qua già dobbiamo arrivare in finale di Coppa Italia informazioni importanti sul mercato il mercato è aperto dovremmo cercare un attaccante perfetto molto bene quindi ragazzi attaccanti sotto nei commenti le do il benvenuto nel club obiettivo di campionato vinci il campionato perfetto ragazzi dobbiamo arrivare in finale di Coppa Italia e vincere il campionato mi sembra molto giusto come cosa io andrei subito a vedere la nostra rosa ragazzi innanzitutto il modulo con cui vorrei giocare perché a me piacerebbe giocare con un bel 433 si potrebbe fare per esempio questo molto offensivo devo dire ecco una roba del genere dopo qui ci vorrei uno che sta dietro le punte giusto per essere molto più offensivi quindi in questo caso ci servirebbe magari un COC e anche un alla destra e un'altra punta comunque altro modulo che mi piacerebbe molto usare è il 4231 4231 sarebbe più o meno non dico la stessa cosa ma quasi ci si avvicinerebbe molto quindi in ogni caso sempre un alla destra una punta un COC e poi ci gestiamo diciamo il centrocampo andiamo a vedere un po' chi possiamo possiamo vendere chi possiamo dare proprio via allora questi ragazzi sono in prestito ok perfetto Montoya Miranda Teis sono in prestito tutti questi sono in prestito si parte Andanovic Santoni Litterrey anche Murillo Jesus One Jesus allora è brutta questa adesso vediamo un attimo che abbiamo Medel con Dogbea Mikadi Jovitic Vidic allora Vidic lo aggiungo alla lista trasferimenti tra Vidic e One Jesus preferisco One Jesus per un semplice fatto che è più giovane e quindi potrebbe fare comodo Nukuri lo terrei Nagatomo invece lo aggiungo alla lista dei trasferimenti Biabiani lo terrei potrebbe farmi comodo vendiamo anche Carrizo ma chi cazzo è vabbè dopo qui ci sono tutti i giovani ragazzi vendiamo anche Bernie ma Alvarez abbiamo Ricky Alvarez ragazzi mettiamo in vendita anche Ricky Alvarez anche se in realtà ci potrebbe tenere D'Ambrosio lo terrei invece D'Ambrosio lo terrei questi ragazzi io li metterei proprio in prestito comunque abbiamo terzino sinistro Santon anche se lo farei giocare come terzino destro perché terzino sinistro abbiamo Teyes dopo come terzino destro avrei D'Ambrosio e come altro terzino sinistro sono un po' sono un po' in difficoltà perché potrei usare Dodò ma comunque non mi fiderai molto quindi andrei dovrei andare sulla difesa aspettate un secondo che mi segno qualcosa perché sennò qua mi dimentico tutto un centrale un terzino sinistro poi un portiere giovane da tenere in panchina poi direi ala destra attaccante e COC così dovremmo essere abbastanza coperti su tutti i ruoli quindi io ragazzi adesso innanzitutto andrei subito qui con l'allenamento cos'è questo allenamento ti dà la possibilità in poche parole di migliorare le caratteristiche di un giocatore di 5 giocatori questi allenamenti si possono fare una volta ogni settimana quindi io andrei subito a inserire Mauro Riccardi assolutamente e poi ti dà la possibilità di fare inizio allenamento simula l'esercizio e simula tutti noi li simuliamo tutti proprio per vedere come sono andati i nostri giocatori tutti di merda a parte Murillo c'è tempo comunque per fare queste cose assolutamente allora signori io direi che si può iniziare tranquillamente la nostra il nostro calcio mercato mi sono fatto una lista di giocatori che si potrebbero acquistare allora un centrale che mi sarebbe interessato ragazzi è un certo musacchio che ho visto del Villareal è un difusore centrale 1,82 io per lui chiederei a M.Bostin di seguirlo perché è giovane ha abbastanza comunque esperienza ma non sappiamo ancora diciamo qualcosa su di lui ci potrebbe essere questo Van Halton anche chiediamo a Zampano di seguirlo e poi anche a Davis anche perché ragazzi ricordiamo che non devono essere per forza sempre titolari e quindi possiamo permetterci anche magari di spendere un po' di meno sempre terzini destri un altro che mi interessava era Bellerin 20 anni anche di prospettiva quindi chiediamo sempre di seguire io chiederei di seguire anche Chambers un centrale oltre a musacchio un altro giovane che mi sarebbe piaciuto prendere è un certo Reckick che io non ho mai capito di chi cazzo fosse sto giocatore a 20 anni da 100 anni e cambia sempre squadra comunque io chiedo chiedo di seguirlo un CoC subito parto a bomba che mi interessava era Cialanoglu ve lo dico proprio così Cialanoglu volevo portarmelo a casa eccolo qua Cialanoglu so benissimo che mi chiederanno un puttana di soldi ragazzi lo so lo so lo so lo so lo so non ditemi niente ma mi interessa veramente Cialanoglu giovane assolutamente e di veramente affidamento secondo me c'era Barclay chiediamo di seguirlo anche questo Sigurdsson non mi è mai dispiaciuto in ogni caso chiedo di seguirlo un centrocampista difensivo che mi interessava giovane è Coquelin dell'arsenal che non deve essere male un altro CoC che non mi dispiace per niente è Sofian Bufal lo Bufal che è 5 stelle skill se non sbaglio del Lille davvero molto interessante ah qua praticamente so tutto valore 27 vabbè lo aggiungo preferiti costa parecchio signori costa veramente molto bella Rabi un esterno destro che davvero mi interessava molto è questo Marez Riyad Riyad Marez del Leicester è giovane ma molto veramente molto interessante Miki attenzione perché Miki Tarian è segnato come esterno destro osserviamolo anche Sidney Sam non è male ok passiamo agli esterni sinistri facciamo una breve ricerca beh vabbè signori Roy se aggiungo la lista dei preferiti so che ormai lo compro sempre però anche un Andre Schurle in realtà non mi dispiacerebbe proprio per niente anzi un altro giocatore che non mi dispiace potrebbe essere Lazare del Palermo nel caso ci dovessimo trovare in difficoltà essendo molto giovani potrebbe essere anche una bella alternativa da far crescere magari anche in prospettiva futura ok direi che si può passare signori alla fascia dell'attacco nel caso io volessi giocare anche con due punte davanti mi servirebbe qualcuno di o forte fisicamente o molto veloce da affiancare a Mauro Riccardi ovviamente che sarà titolarissimo quindi si può passare tranquillamente dai vari fenomeni o proprio dai giovani io partirei con le ali destre allora Lucas potrebbe essere una validissima alternativa proviamo in Olanda c'è il Gazi il Gazi dell'Ajax è assolutamente da tenere d'occhio io terrei ragazzi terrei sotto sotto d'occhio terrei d'occhio anche Candreva perché Candreva è un giocatore che mi piace molto e non mi dispiacerebbe averlo proprio anche nella realtà all'Inter e poi metterei un occhietto anche sui Turbe vediamo in Spagna se c'è qualcuno allora Baccali Baccali si è appena trasferito Fegulì potrebbe essere una buona alternativa Rodrigo cerchiamo di seguirlo passiamo ora all'ala sinistra dove c'è Conoplianca Conoplianca lo teniamo d'occhio attenzione anche a Mugnain del Bilbao molto giovane molto promettente seguirei anche se non è proprio un'ala sinistra Felipe Anderson e poi seguiamo anche Nicola Sansone questo signori lo conosco Fischer dell'Ajax davvero promettente e adesso qui ce ne sono gli giocatori interessanti tipo Yannick Bolasi Yannick Bolasi non è assolutamente male come non è male Max Gradel del Bournemouth e poi per ultimo un Alexis Sanchez che costa 47 milioni ora signori concludiamo la fascia proprio con gli attaccanti uno che mi interessa moltissimo moltissimo è Henry Kane veloce mi piacerebbe veramente molto fare una copia d'attacco Kane Icardi seguiamo anche Orgy e poi questi qui li aggiungiamo alla lista preferiti proprio se rimaniamo senza perché Daniel Sturridge ci potremmo quasi arrivare in Francia invece due giocatori mi interessano uno è Nabil Fekir ma l'altro è assolutamente Alexandre Lacazette che signori sono sincero potrebbe essere quello definitivo quello su cui mi potrei buttare passando in Bundesliga Aubameyang assolutamente Lewandowski non male magari passando in Olanda invece c'è un giovane che ho portato nella sezione Giovani Talenti che è Arcadius Milik per quanto riguarda l'Italia io chiederei di seguire Belotti che mi piace tanto mi piace tantissimo me a Belotti Young chiediamo di seguire Correa dell'Atletico non mi dispiace come neanche Griezmann assolutamente ma è bruttino che è in questa in questa foto Griezmann mi manca solo un portiere un secondo portiere Jerome Zoet scusate quindi alla fine abbiamo messo a osservare parecchie gente importanti signori ma parecchia anche gioventù diciamo così quello che voglio fare io è adesso avanzare un attimo per vedere se mi arrivano già delle offerte e poi lasciarvi perfetto abbiamo già delle offerte per il trasferimento abbiamo delle relazioni la relazione su Nicola Sansone ok 5 milioni va bene oh signori abbiamo un'offerta per Carrizo io gli faccio una piccola controfferta giusto per arrivare ai suoi di valore quindi signori come detto questi sono i giocatori che mi interessano a me ovviamente io sono apertissimo come vi ho già detto ai vostri consigli quindi li aspetto qua sotto nei commenti consigliatemi se vendere se mettere in vendita altri giocatori che magari non mi possono essere utili non so penso a Brozovic penso a Medel penso a Juan Jesus gente così penso anche ai nuovi arrivati e se pensate che possono essermi non utili voi fatemelo sapere sotto nei commenti ma soprattutto fatemi sapere anche chi poter utilizzare chi poter inserire nell'allenamento settimanale io signori il primo episodio della carriera allenatore con la nostra inter finisce qui mi raccomando aspetto i vostri consigli se non mi piace un commento un consiglio noi ci vediamo ad un prossimo video ciao a tutti ragazzi